Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma Ollus. L'obiettivo dell'associazione è proprio quello di sconfiggere il neuroblastoma e i tumori solidi pediatrici attraverso progetti di ricerca innovativi, volte di individuare nuove ed efficaci terapie e cure personalizzate. Infatti, in occasione di Pasqua vi presento questa nuova campagna, Cerca un nuovo amico. Acquistando un nuovo di Pasqua puoi sostenere la ricerca e scegli il dono che fa più per te, tra cioccolato al latte, fondente e nocciolato. Soltanto così potrà aiutare l'Associazione a lottare contro il neuroblastoma. Potete acquistare le uova tramite il sito. Grazie mille. Ma gio Isnin, Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.